Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It, oggi siamo su Craftlands Workshop The Funny Indie Capitalist RPG, è il titolo lunghissimo che ha questo titolo. Il titolo esce o è uscito, dipende poi quando vedremo il video perché devo ancora informarmi bene per l'embargo, il 13 di ottobre, non so ancora dirvi il prezzo, sviluppato da Arvidas Zemaitis e distribuito da Excalibur Games che ha distribuito anche giochi come Flushing Lights ma soprattutto di ShopEquip 1 e 2, si ispira a ShopEquip ma come potrete vedere anche dalle pagine su Steam, potrete appunto muovendovi così e non in prima persona potrete anche assumere delle persone. Ora vi faccio vedere come funziona, vi mostro prima di tutto l'interfaccia perché siamo in una fase non è avanzata però diciamo che c'è già comunque una buona oretta o anche qualcosa meno. In alto vedete il livello, vedete il livello di fatica un po' sulla falsa riga di Stardew Valley e l'esperienza che guadagnate, i soldi che possedete divise in Silver e Copper, l'inventario è basato sulle quantità di oggetti quindi non sugli slot ma sul numero di oggetti quindi in questo caso siamo al massimo. Il bello di questo gioco è che dovete acquistare, all'inizio vabbè vi salto tutta la storia iniziale, siamo su questa isola a volante in cui attraccano delle navi volanti e poi costruendo, pagando costruiremo i ponti anche per le altre isole. ci sono dei portali, potremmo viaggiare anche in altre zone, al momento abbiamo una zona di minaggio, abbiamo la town hall insomma. La storia iniziale era che il proprietario precedente, che si chiama Allcraft, era stato preso diciamo per aprire un portale, lui ha aperto questo portale e se n'è andato ed era uno che padroneggiava tutte le abilità, tutte le capacità diciamo commerciali del paese e si parla di alchimia, si parla di fabbro e di cuoco. Lui è sparito insomma e noi siamo arrivati in questo villaggio, abbiamo trovato questo coso abbandonato, abbiamo, ci hanno permesso di riaprirlo, abbiamo ereditato diciamo questo luogo e ci ha visitato un tizio molto sospetto che era quello che aveva dato appunto la chiave a questo Allcraft per aprire il portale in cui poi lui è entrato e il portale si è richiuso e ha detto ok non sei ancora bravo, quindi mi pare di capire che dovremmo essere bravi in tutte le abilità per poter essere reclutati noi per cercare di capire cos'è il tizio, cos'è successo al tizio all'inizio del gioco. Comunque, anyway, il bello è che noi possiamo andare nel municipio e nel municipio che è la town hall qua e acquistare delle ricette nuove da craftare. Poi, all'empty vials, queste sono tutte cose per il cooking, per l'alchimia, quindi insomma sono cose in più, ci sono personaggi in giro che danno quest, oppure il blacksmith store dove acquistiamo le cose. In questo caso ci serve, vogliamo fare una spada, io all'inizio del gioco ho già acquistato la receipt della spada, quindi in questo caso andiamo nella retro bottega, prima volta che vedo questa tendina fatta così, e crefterò le spade. L'obiettivo sarà quello di arrivare a 28 silver perché con 28 silver si può aprire questa porta e lì c'è il seminterrato e lì potremo assumere i lavoratori per lavorare per noi. Ma la figata è che se guardate qua avete tutti gli oggetti che potete fare, insomma, quando ne avete venduti il numero riportato qua, in questo caso ho dovuto vendere spade dell'Est per 20, ne avete dovuto vendere. Una volta che la vendete diventate maestri in quell'arma e a quel punto potete insegnare ai vostri sottoposti come craftare quella cosa lì. Poi i clienti arriveranno, i clienti arriveranno e potranno mettersi davanti al bancone e chiedere un prodotto. In questo caso io ho scelto, scusate, ho scelto il fabbro in pratica, non il cooking e non l'alchemy. Se vendete roba consumabile si metteranno al tavolo e voi gliela servirete e la mangeranno. In caso invece di produzione di alchimia credo vada appoggiato qua sopra l'oggetto, lui verrà e lo acquisterà. Ora vi faccio vedere come funziona il crafting. Dovete avere i materiali e la ricetta e ovviamente averla comprata, il permesso di vendere questo oggetto e dovete battere al tempo giusto per 4 volte per ogni prodotto che craftate. Ovviamente ogni volta che ne producete uno, ogni volta che picchiate l'incudine, il martello sull'incudine, vi si consuma un po' di forza. Mi sa che si butta via, ogni volta, vedete, prima ho sbagliato, ho ricominciato da capo e ho buttato via materiale. Mi sa che questo è l'ultimo colpo che diamo, perché 7. No, prima ho sbagliato, ho buttato via ancora. Buttate via una ricetta. Sarebbe stato più figo non buttare via, cioè una volta, diciamo, amministrato bene, padroneggiato bene la ricetta, non doverla più prendere, bene, però va bene. Andiamo a dormire. Dormiamo e partiamo il giorno dopo. Quindi a questo punto vi farò vedere come funziona la gestione del negozio, perché col tasto tab abbiamo questo menu, qua vedete appunto c'è il nostro personaggio, il diario, quello che è successo. Abbiamo gli oggetti craftabili, tutti quelli craftabili e quanto lo padroneggiamo, in questo caso solo la spada. Qua abbiamo la possibilità di aprire il negozio e vedere gli item che pubblicizziamo, cioè possiamo andare a dire che cosa vendiamo in negozio e ovviamente i clienti verranno e chiederanno. Dovremo anche cercare di capire che cos'è più richiesto, perché ovviamente dovremo organizzare anche le merci, anche per farle produrre ai nostri sottoposti. Qua ci sono delle cose che non abbiamo, la licenza della fornace, la licenza dell'alchimia, la licenza dell'assemblaggio, il ponte per freight, quindi che è quell'isola lì a destra che abbiamo visto, del farming, l'airship license perché potremmo anche fare navi, c'è sempre un gioco parecchio profondo, comunque in questo caso adesso vi faccio vedere, qua vabbè sotto abbiamo, per alcuni giorni i clienti pagano di più alcuni oggetti, quindi ci conviverebbe vendere quelli, vedete qua, l'andamento delle vendite e altre cose. Apriamo il negozio, vedete che lo apriamo e i clienti arriveranno, sono le 10 di mattina, siamo al giorno 7 e niente, io adesso sto attendendo di avere 28 silver per poter andare a, diciamo, aprire il portale lì, quella porta lì e poter assumere delle persone. La cosa interessante, che potete vedere anche da Steam, è che potete proprio andare a far del male ai vostri dipendenti, quindi farli lavorare quando cazzeggiano, ed è il bello di questo titolo. Adesso ne abbiamo ancora 3 da vendere, quindi stiamo guadagnando un po' pochino perché sono 20 silver, quindi ogni 5 spade è un gold, ogni 5 spade è un silver, quindi direi che non ci stiamo arricchendo più di tanto. Adesso, vedete, non c'è più nulla da dargli, quindi lo mando via, chiudo il negozio e mi do un'occhiata intorno. Adesso chiudo, vedete che lui andrà via. Ora, dovrei andare a acquistare altri oggetti o andare a minare, però voglio provare a vedere una cosa, perché ci metterò una vita a fare questa... Allora, qua in alto si mina, quindi andando alle rocce si mina il minerale e si possono trovare anche delle gemme che possono essere vendute. Io ho preso anche prima delle ricette, qua c'è il warehouse, quindi c'è la possibilità di immagazzinare della roba, ma soprattutto acquistando in negozio c'è la possibilità anche di ordinare merce direttamente al negozio, dovrei capire un attimino come funziona. Intanto qua vi faccio vedere la town hall, che è il municipio. Il municipio c'è il tizio qua principale, quello che ci accoglie all'inizio, in cui possiamo andare ad acquistare oggetti. Questa è una spugna, che non so che cosa serve onestamente. Qua abbiamo Kiki, che ci parla dei portali, e qua abbiamo altre licenze da acquistare per la fornace o per l'alchimia, quindi in conseguenza per cucinare e per fare alchimia, ma non mi interessa. Voglio provare a fare un'altra ricetta adesso, non so se riusciremo a fare, perché possiamo anche abbattere gli alberi, oltre che a scavare la roccia. Quindi mostrami, vedete qua c'è il delivery, possiamo scegliere di farceli mandare direttamente in deposito. Una volta acquistati, l'uomo del trasporto lo trasporterà in... va bene, allora... voglio acquistare... facciamo... vabbè, una spada, voglio provare l'elmet. Scusa... E costano un botto, cioè non andiamo a guadagnarci minimamente a far sta roba, eh. Deliver to workshop. Che cosa? Queste ricette qui. Vedete che... Deliver to workshop. E possiamo andarli anche nel basement, quindi nella cantina per... vabbè, insomma, adesso dovrebbe partire un tizio da qui che vai e me lo porta in negozio, comunque va bene. Allora, in effetti se guadagniamo 20 a spada e ne spendiamo 68 per la ricerca, diciamo che... vabbè che non ho acquistato spade, quindi è arrivato a consegnare, ok. Il tizio è arrivato a consegnare, me l'aveva consegnato. Sì, vedete che è andato proprio fisicamente a metterlo nella cassa lì, interessante come cosa. Ora voglio craftare, vedete che qua possiamo col tasto R cambiare... no, non mi interessa, grazie. Vorrei cambiare il crafting. Ah, ok, inizio il lavoro. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 3, tac, 1, 2, stiamo facendo ancora spade però, eh. Pensa che non ho comprato. E infatti qua davanti con la R cambiamo la ricetta e facciamo l'Iron Helmet. Vedete che intanto le forbici, l'Iron Helmet, voglio fare l'Iron Helmet. Quanti lingotti ho? Riesco a farne due. Inizia il lavoro, ok. Lo sto attento a non buttarlo perché comunque sono un botto di... Ok, fatti i due lingotti, io vado nel pannello del negozio e dico che pubblicizzo, vendo anche gli Iron Helmet, che li vendiamo a 21... 91, scusate. Tolgo questo perché ovviamente non mi interessa. Le vendo a 91, sono stanco abbastanza, però va bene. Voglio andare a prendere anche... ho ancora un po' di energia, quindi posso andare cinque di notte. Vorrei andare a scavare un po' di materiali, perché almeno li ho da poter... Ok, vedete che intanto qua scavo. È già finito? Cioè è già finito, sì. Ok, ho trovato anche delle gemme. Poi ovviamente non ci lascia più scavare le risorse se non abbiamo almeno quattro spazi liberi in inventario, perché appunto ogni tanto si può trovare qualcosa di bonus. Ho trovato anche... Ah no, gli Iron Helmet ce li ho lì. È un gioco senz'altro promettentissimo. Cioè non vedo l'ora poi di provare con l'assunzione di nuovi dipendenti. Allora... Ma scusami, se io vado nel negozio me lo diceva qua la ricetta senza dover andare lì. Vabbè... Ah no, me lo faceva scegliere da là, ok. No, niente. Iron Paddling. Vediamo. Vendimi un Iron Paddling. Che cos'è che è? Gun, blue paint, armor, accessori, sword, gli occhiali, l'elmet upgrade plan. No, voglio prendere questo. Scusami, ma se io ti vendessi questo quanto mi dai? 63, tieni, viva. Intanto... Ah, me li vende a 36. No, non mi interessano. Spade a 10, no. No, 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 no. Niente, sarà abbastanza complicato adesso, perché comunque... Ok, si guadagna bene, però... Non trovo altre ricette, quindi sarà da restare un attimino in attesa e vedere che cosa succede. Perché devo arrivare a 28 per poter sbloccare il piano di sotto e poter poi, appunto, assumere altra gente. Perché lì c'è qualcuno che è rimasto chiuso dalla precedente gestione. Quindi è quello il bello. Allora, vi faccio vedere. Intanto qua non mi fa cambiare clean. Ah, devo pulire da quello di prima perché ho lasciato su roba. Changer, sip, Iron Paddling. Ah, sono cinque. Ben cinque. No, vabbè, ma facciamo ancora l'iron helmet, no? Ok, dai. Inizio a lavorare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, finito. va bene a questo punto è già mattina possiamo vendere spade e ho visto che ho ancora delle spade in inventario quindi le vendiamo e apriamo il negozio tac open workshop via vediamo che succede siamo stanchissimi però va bene me li farò mandare direttamente in negozio perché comunque gli oggetti dopo spero non me li mandino automaticamente ogni volta perché sennò diventa un problema anche degli helmet ok ok posso farne altre due va bene mi chiede 4 si forse riusciamo a farne altre due intanto abbiamo aperto quindi la gente arriverà poi qua sotto ci dice quando attacca la nave dei turisti dei clienti eccolo lei capello di paglia vuole l'elmetto bene ah ma 1,23 oh i cavoli eh non ce l'ho questo mi spiace tasto destro lo mandiamo via arriva un mago vuole l'elmetto quanti elmetti ho ancora io 5 qua facciamo gli soldi lei cosa vuole la spadina no vuole un elmetto anche lei grazie grazie rivederci tra poco facciamo il livello ah no non ce l'ho questo mi spiace sì dovrei andare a minare un bel po' e accumulare un bel po' di risorse in modo da tenermele lì e creare tutto quello che mi serve sì la spada finite le spade quindi devo levarle dal negozio eh non posso perché ha aperto mannaggia eh no le spade le ho finite spiace mi arrivano eh guardi il corriere mi arriva lunedì ho fatto la riordino e ok lei vuole un elmo no eh la spada l'ho finita mi spiace ancora un listino ma devo vendere elmi lei vuole un elmo no vuole una spada a rivederci stiamo facendo dei bei soldini adesso eh devo dire adesso mi metto a fare un po' di un po' di ordini di compro un po' di ricette e e poi mi metto lì e guadagniamo oh brava anche lei vuole un elmo vero una spada non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho adesso vendo solo elmi lo levo dal listino la spada perché mi stanno creando problemi non ce l'ho bravo anche lei vuole un elmetto vero sì bene possiamo chiudere ho finito la merce siamo a 14 quindi non ho male direi adesso mi metto qui ne produco altre due ho già preso tutto begin work uno no ah ho finito l'energia sì sono stanchissimo tra l'altro quindi dormiamo sembra comunque no dicevo molto profondo come titolo ci fa aspettare fino alle 7 di mattina indipendentemente da quello che lavoriamo cos'è questo ah ok permesso non abbiamo permesso per fare quello inizia il lavoro dai uno due tre quattro uno due me la sono sentita quattro uno ok no ci inizia mi ci fa la finta ma niente dai vendiamo ancora facciamo così leva da listino questo e vendi solo l'altro dai così almeno apri l'inventario apri il negozio vendiamo ste due cose chiudiamo e andiamo a farci altri soldi poi non vedo l'ora quando avremo un nuovo dipendente di salve solo zombie oggi arrivano perfetto possiamo chiudere abbiamo già venduto finito tutto arrivederci adesso 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 direi che direi che non siamo messi malaccio abbiamo ci mancano 10 silver andremo a spenderne un po' dire la verità però intanto voglio andare a minare un po' e poi ci compriamo dopo quello che serve allora mina scende di uno quindi neanche tanto perché poi si possono abbattere anche gli alberi ok molto bene abbiamo 20 e adesso ci facciamo spedire a casa un po' di permessi in modo da non portarceli in zaino così magari durante il ritorno mentre ci consegnano le ricette andiamo a minare un altro po' allora salve quanto costa la consegna? delivery ma upgrade plan armor blueprint accessori eh no non si può medium backpack no prendo questo helmet ne compro 10 7 ci costa non va di lata ok vendi niente arrivederci diventa al momento ovviamente non mi aspettavo altro ma diventa un pochino ripetitivo all'inizio poi dovremmo gestirci il business in modo diverso con anche i dipendenti adesso io interrompo un attimo e ci rivediamo quando ho il dipendente ho sbloccato con i 28 silver ok ok dovremmo essere quasi alla fine perché stiamo vendendo gli ultimi 10 elmetti come vedete qua dovrei aver quasi raggiunto la maestria 21 su 26 ne ho venduti adesso 22 su 26 quindi altri 4 noi saremo maestri anche quello è sparito essere maestri anche di questo in pratica della forgiatura di elmetti adesso arriveremo a 28 poi la domanda che potrebbe sorgervi è se finisco i soldi come faccio diciamo che potete andare a scavare e vendere i minerali quindi è una fonte di guadagno sicura anche se non molto redditizia ok ancora un elmetto due elmetti e dovrebbero garantirci l'acquisto dell'accesso alle foundation come si chiamano perfetto qua si può cliccare qua ho scoperto quindi possiamo chiudere abbiamo 29 silver quindi si possono acquistare il basement purchase e abbiamo acquistato anche il piano di sotto quindi questo cambierà il workmaster ti aiuterà a amministrare i lavoratori i workers saranno in grado di craftare le merci che tu hai padroneggiato quelle con la stellina in pratica la maestria aumenta quello che tu il prezzo di vendita al cliente ok l'acquipaggiamento che sono ok va bene cercheranno in quel contenitore gli ingredienti loro possono acquistare oppure loro possono acquistare da timothy e il tizio lì è vaso fill up money chest ok i lavoratori prenderanno il loro stipendio da ah da lì ok e così anche i fondi saranno usati per acquistare ingredienti da timothy ok quindi in pratica in sintesi adesso ci si è aperto un nuovo mondo dove praticamente possiamo andare a mettere del denaro qui o da qui insomma adesso no da qua si mettere del denaro e in pratica i nostri lavoratori che troveremo in giro che assumeremo acquisteranno se non hanno nulla qua oppure prenderanno i materiali da qui che li faremo inviare dalla diciamo dal negozio oltre che farlo inviare il piano di sopra lo possiamo far inviare qui e ogni giorno si prenderanno lo stipendio da qua e da qua prenderanno anche i soldi per pagare lui qualora qua non ci fossero i materiali quindi abbiamo creato una sorta di produzione sotterranea di quello che è il molto interessante come cosa io ovviamente a me ovviamente piace tenervi sulle spine quindi in pratica adesso interromperò qui e vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate di questo bellissimo gioco alla prossima ragazzi e ciao già